Si celebra oggi il giorno della memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico nei campi nazisti. Nell'occasione la prefettura di Biella ha promosso e coordinato, in collaborazione con la comunità ebraica di Vercelli Biella, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, una cerimonia quale momento di riflessione per tenere viva la memoria storica, anche nelle nuove generazioni della Shoah e del senso profondo di quanto ha rappresentato. La celebrazione è avvenuta alla presenza delle autorità civili e militari e delle comunità religiose, ebraica, cattolica, buddista e islamica. Presente è anche una rappresentanza di studenti della Scuola San Francesco di Biella e una rappresentanza della consulta provinciale studentesca, che ha portato sul palco una riflessione sul ricordo e negazionismo, paragonata ovviamente anche alla situazione pandemica attuale. La cerimonia si è conclusa con l'intervento del prefetto di Biella, Franca Tancredi, che ha consegnato ai familiari del defunto signor Ercole Mancini, deportato presso un campo di concentramento in Austria, la medaglia d'onore riservata ai cittadini deportati ed internati nei lager nazisti. Sì, era molto importante, non solo celebrale. Noi abbiamo degli impegni istituzionali e fra questi è la celebrazione del giorno nella memoria. Ma al di là della celebrazione istituzionale e il credere in quello che si fa, noi abbiamo creduto fortemente, continuiamo a crederci e abbiamo voluto e siamo riusciti almeno quest'anno a portare con noi i ragazzi. Hanno fatto delle letture molto importanti, primo levi, e delle riflessioni, riflessioni personali agganciandole alla realtà che stiamo vivendo. Il negare determinate situazioni, quindi hanno agganciato la loro riflessione a determinati comportamenti attuali che oggi negano determinate realtà. Come negare il passato o negare l'olocausto. Ecco, il fatto che gli stessi ragazzi abbiano sottolineato, abbiano fatto delle riflessioni di così grande importanza ha maggiormente valorizzato questa giornata. Come commenta gli ultimi fatti di cronaca riguardanti quel ragazzo discriminato proprio perché è di origine ebraica? Vuol dire che ancora bisogna lavorare. Bisogna lavorare molto noi come istituzioni, bisogna lavorare molto le famiglie, le famiglie, la scuola. Però faccio mio il commento di autorevoli persone. Quello che si è verificato oggi, 80 anni fa, ha portato a quello che abbiamo visto oggi nel video, fortunatamente questo episodio, in questo momento, particolare momento storico, anche se sta a indicare che comunque ancora tanto va fatto, cambia un po' di prospettiva, nel senso che comunque le istituzioni sono presenti, comunque le istituzioni si sono resi conto o sono immediatamente intervenute, comunque se ne è discusso, comunque se ne è parlato, comunque si è aperto un dialogo anche all'interno delle scuole, perché questi fatti non possono, non devono essere accettati, assolutamente.